Vogliamo investire nell'approccio One Health, ovvero guardando a esseri umani, animali e ambiente per rispondere alle emergenze sanitarie di oggi e di domani. Così il ministro della salute Roberto Speranza, a margine della seconda e ultima giornata del G20 della salute in corso a Roma, per il ministro va costruito il patto di Roma che garantirà vaccini anche ai paesi più fragili. 5 miliardi sono i vaccini somministrati in tutto il mondo, ma quasi il 75% di queste dosi riguarda solo 10 paesi.